bene carissimi ragazzi e ragazzi in ascolto e voi tutti gentilissimi ascoltatori direte un buon consiglio un santo pomeriggio a tutti ben ritrovati sulla frequenza della nostra carissima radio per una nuova puntata di Spazio Giovane dedicata come sappiamo ormai siamo giunti credo la ventinovesima puntata a questo nostro lungo viaggio dentro il mondo tutto divino della divina volontà nella puntata precedente se ricordate abbiamo provato a concludere in parte perché oggi con la lettura odierna e il commento sarà ripreso il tema dei giri nel fiat santificante quindi come si gira nella divina volontà in tutta l'opera diciamo della santificazione compreso la possibilità di incidere e di operare efficacemente per la riparazione dei peccati e per la conversione dei peccatori attraverso gli atti compiuti appunto nel fiat santificante entrando e attraverso gli atti diciamo nostri vicari e sostitutivi dentro i cuori dentro le menti per porre il nostro ti amo riparatore per implorare l'avvento del fiat divino divino nelle anime quindi evitando abbiamo visto la volta scorsa anche tutti quegli atteggiamenti comportamenti umani ecco di reagire a tante situazioni che non hanno nulla di divino e tra l'altro non hanno neanche nulla di cristiano se vogliamo poi avevo iniziato la lettura di quel passo spettacolare dell'11 novembre del 1922 del 14esimo volume che spiega come dei punti fondamentali ecco abbiamo iniziato la lettura commentata io adesso riprenderò l'ultima parte perché era un passaggio fondamentale e poi vorrei proseguire la lettura e il commento perché è uno snodo assolutamente importante perché giunti diciamo a questo punto del nostro cammino è come una sorta di ricapitolazione generale e di chiarimento di alcuni punti particolari che per chi ha seguito tutto il ciclo delle catechesi con attenzione ora dovrebbero essere dovrebbe essere tutto abbastanza più chiaro è evidente che come tante volte ho segnalato e ho cercato di evidenziare questo ciclo di catechesi non è esaustivo questo è una piccola un piccolo tentativo di sintesi però sistematica cioè che faccia comprendere per quanto possibile in maniera chiara cos'è il regno della divina volontà cos'è la peculiarità di ciò che Gesù ha rivelato a quest'anima con il compito di trasmetterlo a noi e non di trasmetterlo a fine diciamo così semplicemente di una conoscenza formale ecco o di curiosità diciamo così no concettuale ma perché lo potessimo vivere fermo restando come Gesù però tante volte afferma che la vita nella divina volontà l'abbiamo visto comincia dalla conoscenza e dalla conoscenza profonda e dalla comprensione di quello che Gesù ha manifestato e poi chiaramente dà la scelta di metterlo in pratica come dicevo tante volte questo è sì è un ciclo di catechesi quindi non è come tutte le catechesi sapete che la catechesi ha come fine quello di provocare l'ascoltatore a prendere una posizione quindi a prendere una decisione ecco per cui il fine per cui si fanno queste catechesi è che qualcuno comprendendo la bellezza la grandezza del dono della divina volontà decida come dice la sacra scrittura nel suo cuore il santo viaggio e quindi di provare a entrare in questo regno tutto divino bene detto dette queste parole diciamo a titolo di reintroduzione riprendo la lettura della che abbiamo visto la volta scorsa Gesù spiegava che faccio una breve sintesi della prima parte che tutto ciò che noi vediamo tutto è come dire come un pesce che nuota dentro il mare del divino volere d'accordo perché tutto dalla divina volontà viene e tutto nella divina dalla divina volontà scusa te è conservato nell'essere d'accordo per cui adesso riprendo e ogni atto di ogni ente intelligente o non intelligente buono o cattivo che sia è sempre originantesi dalla divina volontà in quanto tale poi però bisogna vedere quando si tratta di creature intelligenti il contenuto dell'atto che viene posto in essere ecco perché quel contenuto purtroppo se nel merito si dissocia dalla divina volontà pur avendo in essa la sua origine può avere in altro il suo termine e il suo fine e diventare una arma micidiale usando le parole che usa Gesù stesso bene riprendo quindi la lettura dall'ultimo passaggio che abbiamo già visto che magari ricommenteremo e poi cerchiamo in questa puntata di proseguire con la lettura vedi dove hanno origine ciascun atto di creatura anche un pensiero nella santità della mia volontà attenzione con questa differenza che se l'uomo vuole quello stesso pensiero parola eccetera può farlo bene o male santo o cattivo ora la mia volontà ebbe un dolore nel vedere in tanti cambiati i loro atti di cui ella era comunque attrice in micidiali per me e per loro perciò volevo che la mia volontà attenzione facendosi doppiamente attrice di ciascun altro stendesse su tutti un altro atto divino che doveva ricambiarmi secondo la santità della mia volontà in altri tanti atti divini adesso li spiego ma ci voleva uno per far ciò ed ecco la mia umanità santa libera anch'essa che non volendo altra vita che la sola volontà divina nuotando in questo mare immenso andava raddoppiando ciascun pensiero parola ed opera di creatura e stendeva su tutto un atto di volontà divina qui dobbiamo spiegare facciamo l'esempio mio che sono una delle tantissime persone e anime che sono vissute su pianeta terra allora la mia persona i miei atti le mie parole i miei pensieri le mie opere tutto ciò che sono tutto ciò che faccio ha necessariamente origine nella divina volontà senza la quale io ne ci sarei ne potrei perdurare nell'essere chiaro solo che se io faccio un atto cattivo cioè un atto non sottoscritto dalla divina volontà per esempio dico una parolaccia facciamo un esempio alle ore 16.54 e 20 secondi del di 16 gennaio del 2018 se io in quel preciso secondo dico una parolaccia si determina questa situazione che nella mia vita che ha origine ed è mantenuta nell'essere dal divinvolere in quel momento io sto originando un atto che è micidiale cioè è un'offesa contro Dio contro il prossimo e contro me stesso perché è una vulgarità allora una volta che io questa parolaccia l'ho detta capite quando noi diamo vita ad una cosa fosse anche un pensiero è un pensiero consentito io la parolaccia non la posso cancellare io capito cioè se io ho detto una parolaccia 10 secondi fa non ho il potere di tornare indietro nel tempo e cancellare la parolaccia e non ridirla non posso fare questo funziona soltanto con i computer con le cose elettroniche che possiamo fare annulla e è finito il discorso con la realtà reale perché voi oggi noi siamo abituati a vivere nella realtà virtuale non si può fare questo lavoro allora che succede succede che nell'ordine come dire universale della divina volontà c'è questo buco d'accordo sto facendo un esempio proprio banale siccome questo buco non può essere aggiustato da me non è possibile ci vuole qualcuno che sopra questa parolaccia d'accordo anziché stenda un atto buono d'accordo un atto per esempio di lode alla santissima trinità un gloria al padre d'accordo quindi che rifaccia quello che ho fatto io rettificandolo capite e questo è quello che ha fatto Gesù in tutta la sua vita terrena cioè quando dice attenzione allora volevo che la mia volontà facendosi doppiamente attrice di ciascun atto stendesse su tutti un altro atto divino cioè al mio atto umano contrario al divino volere o non perfettamente conforme al divino volere quando non fosse un peccato ma fosse una cosa fatta per esempio di testa umana pur essendo lecita non è sufficiente che doveva ricambiarmi secondo la santità della mia volontà altrettanti atti divini cioè perché quell'atto è un'offesa al nostro Signore perché non corrisponde a quella stessa volontà da cui deriva la mia persona e da cui quell'atto stesso è mantenuto nell'essere spero di essere il più chiaro possibile chi è che si prende l'incarico di duplicare tutti gli atti di tutti gli esseri umani cioè voi capite in ogni istante in cui tu stai facendo qualcosa dicendo qualcosa pensando qualcosa tu non ci pensi ma sappi che sopra quello che tu stai facendo scorre come dire sarebbe come adesso noi abbiamo i computer supponiamo che abbiamo un programma di gestione degli audio io c'ho i mac garage band d'accordo tu ci metti là sopra una traccia audio e c'hai il primo file dove scorre questa traccia audio se tu prendi un'altra traccia audio e ce la sovrapponi mi vedrai che se mandi il cursore in contemporanea va avanti la prima traccia audio e la seconda traccia audio in contemporanea per esempio ci fa questa cosa se io voglio prendere questa catechesi e metterci sotto una musichetta di sottofondo prendo la mp3 di questa catechesi poi prendo un mp3 musicale e che cosa faccio carico la mp3 della catechesi e sotto ci metto un mp3 musicale quando tu vai a ascoltare il file esportato ti senti la mia voce con sotto la musichetta ma adesso io che sto parlando in diretta non c'è la musichetta d'accordo ce la devi mettere in un secondo momento adesso il signore mi perdonerà per far capire qualcosa ecco lui ha fatto questa musichetta mi perdoni l'esempio universale cioè tu non lo sai ma in qualunque istante tu stai parlando pensando parallelamente ad ogni atto che tu fai scorre il gesto di riparazione che Gesù ha fatto per te altrimenti sarebbe un guai e non finisce mai capito e ripeto ci voleva uno per fare ciò ed ecco la mia umanità santa libera anch'essa quindi anche l'umanità di Gesù era libera e liberamente continuamente adeguato il suo libero arbitrio alla divina volontà un'umanità santa libera anch'essa che non volendo altra vita che la sola volontà divina nuotando in questo mare immenso andava raddoppiando vedete ciascun pensiero parola ed opera di creatura andava a mettere la seconda traccia tu non lo sai ma quella seconda traccia c'è ringrazia Dio che c'è allora l'essere di questa seconda traccia attenzione non dice ah che bello quindi ha fatto tutto Gesù per me quindi faccio quello che mi pare che tanto me lo vado comunque in paradiso no te ne vai comunque in paradiso perché il senso di questa seconda traccia è di riparare la gloria divina rovinata dalla tua presa di distanza dalla divina volontà e quest'ordine deve essere riparato da un punto di vista oggettivo ma questo non cancella la tua responsabilità soggettiva e il fatto che quell'atto che comunque tu fai di forma da essa causa danni a te e intorno a te e quando è peccato mortale ti toglie la grazia e se muori stai a te peccato mortale comunque ti porta all'inferno capite lo spiega Gesù e questo quindi questo duplicare a livello universale questi atti soddisfaceva e glorificava il divin padre in modo che potette guardare l'uomo ed aprirgli le porte del cielo cioè questa operazione che Gesù ha fatto di riparazione universale di glorificazione del padre ha come dire indotto il padre a usare misericordia e a aprire comunque le porte del cielo cioè dare all'uomo la possibilità di convertirsi a cogliere la grazia santificante e raggiungere la salvezza grazie a quest'operazione però questo fa capire anche la serietà dei nostri atti perché un atto brutto rimane capite cioè guardate che santo maso d'aquino io quando studiavo queste cose questo che dobbiamo pensarsi centomiliardi di volte prima di di dire di fare o di pensare una certa cosa io mi sforzo di farlo comprendere a certe anime non è la stessa cosa dirla o non dirlo una cosa non è la stessa cosa farla o non farla noi abbiamo nell'esperienza comune alcune operazioni brutte specialmente in alcuni tipi di peccati cioè se una giovinetta vergine si concede ad un giovanotto la verginità l'ha persa cioè non può mettere il reverse dirà va bene mi sono pentita e no non si torna indietro da questa cosa qui se poi sciaguratamente aspetti pure un bambino cioè che fai non si può tornare indietro ecco perché purtroppo poi si hanno delle ecco scelte che lasciamo perdere che non è questo l'argomento di questa di questa puntata quindi questo per dire che in alcuni atti è palese il fatto che non si può tornare indietro ci si può fare niente quindi ma questo vale per ogni tipo di azione e quindi attenzione con azione fatta male produce danni produce danni e se a livello oggettivo questo disordine è stato riparato dalla santissima umanità di Gesù e non solo da essa adesso vedremo rimane il fatto che i danni comunque si sentono si vedono e riverberano e anzitutto su di te riverberano allora questo è il primo passaggio attenzione Gesù continua questo ci fa comprendere anche perché stavo facendo queste cose adesso lo vedremo no? perché c'è il secondo passaggio che coinvolge la Madonna e c'è il terzo passaggio che coinvolge e lui se poi coinvolge tutti noi vediamo il secondo passaggio ne fui contento di ciò vogli la mia mamma anche lei santa Madonna e la nuova Eva l'immacolata concezione che mi seguisse nel mare immenso del volere supremo attenzione ed insieme con me duplicasse anche lei quindi abbiamo due duplicati tutti gli atti umani mettendovi il duplice suggello dopo il mio degli atti fatti nella mia volontà su tutti gli atti delle creature quindi ci abbiamo un'altra creatura perfettissima piena di grazia non divina ma divinizzata come è la Madonna non divina nella natura ma divinizzata per la grazia e quindi divina per partecipazione capite cosa sta dicendo Gesù? allora prendiamo sempre l'esempio di Garage Band abbiamo la prima traccia che sono le nostre azioni ok? Gesù ci mette sotto la musichetta prima musichetta la musichetta di Gesù che rende le nostre azioni un po' meno grossolane la Madonna ce n'ha messa un'altra terza traccia sotto ecco gli atti compiuti nella divina volontà della Madonna non solo per sé ma estendendosi e moltiplicandosi per la potenza del divino volere che abbraccia gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo perché nel divino volere tutta la storia è presente in atto attenzione li prendono tutti quanti e quindi abbiamo la seconda traccia che scorre la terza traccia scusate che scorre a fianco alla prima che sono le nostre azioni la seconda le azioni nel divino volere che coprono ciascuno dei nostri atti fatti da Gesù e quelli fatti da lei attenzione questo è possibile soffermo l'attenzione perché ci rendiamo conto di che cos'è la divina volontà quando ho detto che nel divino volere tutta la storia di tutti gli esseri mai vissuti sulla terra è presente in atto allora vi faccio due esempi per farvi capire questa cosa voi sapete che padre Pio cominciamo da un santo canonizzato e poi facciamo l'esempio di una mistica non canonizzata a me particolarmente cara ecco perché noi ci stupiamo di tante cose ma se uno capisce un pochino del divino volere ci sta niente da stupirsi allora voi sapete che padre Pio sono attestate nella sua vita delle profezie sul futuro per esempio quando conobbe il giovane sacerdote Don Carol Wojtyla disse ad un suo confratello attenzione trattatelo bene a questo perché questo diventerà papa d'accordo e papa è diventato oppure delle volte prevedeva per esempio la sua direttissima figlia spirituale Clionice Morcaldi quando ebbe da poco conosciuto padre Pio una lettera di nomina a maestra insomma si vede si vede anche nel film di padre Pio con Sergio Castellitto che ha avuto la nomina a maestra non so quale scuola e quando la madre portò sta lettera a padre Pio padre Pio prese sta lettera e la fece a mille pezzi quella si è pura offesa dice ma che se è un carico che fai e padre Pio non dia le spiegazioni poi si venne a sapere se non mi ricordo che sta maestra che aveva preso non so che cose gli avevano successo forse l'avevano violentata insomma aveva passato un guaio per quella cattedra che aveva preso capito padre Pio lo aveva previsto e gli aveva strappato la lettera oppure il dono straordinario che padre Pio aveva della lettura dei cuori delle coscienze allora quando tutti quanti capite sai padre Pio qua legge i cuori dice il futuro che ne avevano fatto una sorta come dire di idolo perché poi gli esseri umani sono sempre così no mica cominciano a pensare alla grandezza di Dio che concede di questione sui figli ma idolatrano il portatore di essi miseria umana padre Pio quando gli si crea spiegazioni diceva nella sua semplicità questa frase stupenda diceva ogni tanto Dio mi fa leggere qualcosa del suo libro cioè in Dio state attenti nel non lo so 1900 quando ha conosciuto Vuitiva io non me lo ricordo supponiamo nel 1945 non so se è questo qui no quando Carlo Vuitiva è andato a confessarsi da padre Pio perché aveva sentito questo santo frate cioè nella divina volontà quello che sarebbe successo nel 1978 questo me lo ricordo almeno l'anno la data dell'elezione di San Giovanni Paolo II già era presente nella non solo era presente era già presente all'inizio e alla fine del pontificato di San Giovanni Paolo II capite? così come tutta la storia è tutto presente questo è l'esempio di padre Pio io perdonatemi questa digressione questa è una cosa detta a titolo del tutto personale non in quanto sacerdote come in quanto fedele rimasi molto edificato so che sono argomenti un po' particolari dagli scritti di Maria Valtorta che sono a mio avviso bellissimi la chiesa si pronuncerà quando si vorrà pronunciare fino a quando non ci sono questi pronunciamenti sapete che nessuno è obbligato a crederci gli si può dare fede umana però effettivamente se uno legge l'opera che questa mistica ha lasciato scritto vede le descrizioni della vita degli episodi a molti dei quali conosciamo dei Vangeli della vita terrena di Gesù che ti lasciano insomma a bocca aperta io dico sempre dico sì se se li fosse inventati mamma mia guarda è vero che il genio umano Tanta Righieri ha fatto la Divina Commedia insomma Tolkien ha fatto gli scritti se si è inventato l'elfico insomma la fantasia umana insomma è abbastanza è abbastanza intraprendente quando ci si mette qualche dono particolare di grazia no? o di natura però insomma è veramente brava insomma inventarsi una cosa del genere ora se questa cosa non se l'è inventata ma se avesse un origine soprannaturale tu dici che ha fatto è entrata nella macchina del tempo come ha fatto a vedere duemila anni dopo le cose che ha vissuto Gesù basta che Dio ti apre lo scrigno del suo divino volere e tu lo vedi perché nella Divina Volontà la vita terrena di Gesù adesso scorre in atto adesso in questo momento ma come è successo duemila anni fa è successo duemila anni fa per noi che viviamo nel tempo ma nella Divina Volontà è nato cioè dobbiamo comprendere cioè lo scarto che c'è tra la creatura e il creatore tra l'altemporale e l'eterno no? altrimenti non possiamo comprendere queste cose capite? quindi nella Divina Volontà la vita di Gesù scorre in atto capito? per cui se il nostro signore vuole farti vedere adesso il discorso della montagna ti rapisce e ti apre quello scrigno del suo divino volere immenso infinito noi abbiamo oggi cioè uno rimane sconvolto provate a immaginare per esempio non lo so io sono pratico un pochino di internet provate a immaginare il server di Google io ogni tanto ce penso dico ma questi che c'hanno cioè vi rendete conto quanti video quanti miliardi di video stanno caricati su YouTube dico ma che server c'hanno questi qua do la via non lo so una città intera dedicata se qualcuno sa qualcosa sui server di Google facesse una curiosità hanno tanto per dire cioè voi capite do caspita li mettono voi immaginate quanti quanti video sono caricati ogni giorno su YouTube in tutto il mondo si trova di tutto su YouTube adesso ci fa paura una cosa del genere ma una cosa del genere dinanzi al server mi perdoni il nostro signore della divina volontà fa ridere le galline capite cioè e questo ci aiuti anche un attimo figlioni miei cari voi immaginate una persona così sciocca che dice una bestemmia cioè tu capito cioè cioè scusa ma tu ti rendi conto di chi stai infamando d'accordo cioè noi Dio lo facciamo a volte tanto piccolo lo facciamo e Dio diciamo non fa sfoggio di potenza inutile ma tu dici una bestemmia a uno che se volesse ti incenerirebbe all'istante ma non solo ti incenerirebbe all'istante stacca un attimo la spina della divina volontà da te e ti precipita nel nulla da cui vieni capito e attenzione questo Dio lo può fare in qualunque momento ti metti contro il divino volere che è questo poco che adesso ci siamo rappresentati e molto di più ma che fai allora la divina volontà ha voluto che oltre alla riparazione perfetta di Gesù quindi a questa seconda traccia quindi che scorre quella bestemmia e Gesù ci stende sopra un atto d'amore di lode al padre la Madonna ci stende anche i suoi e due quindi allora come mi era dolce la compagnia della mia inseparabile mamma continua la lettura nella mia volontà la compagnia nell'operare quindi vedete anche l'unione unica che c'era tra Gesù e Maria no? la compagnia nell'operare fa sorgere la felicità la compiacenza l'amore di tenerezza la gara l'accordo l'eroismo l'isolamento produce il contrario attenzione a sto discorso dell'isolamento adesso non voglio fare la catechesi e la e la predichetta da parroco no? che i parroci hanno sempre un po' sta cosa ma quando noi ci isoliamo cioè la solitudine l'isolarsi il rinchiudersi è sempre cosa che non viene quasi mai da Dio quasi mai quasi mai dico quasi perché c'è qualche rarissima eccezione di qualche ispirazione divina rara alla vita eremitica ma questa si capisce subito che non è una cosa patologica per alcune caratteristiche da cui è accompagnata ma ordinariamente è sempre patologico l'isolamento bene onde come operavo insieme con la mia cara mamma quindi farli insieme queste cose quindi Gesù e Maria insieme quindi contemporaneamente contestualmente c'era questo cooperare per rifare per rifare stendersi sopra gli atti umani malamente fatti quindi onde come operavo insieme con la mia cara mamma così sorgevano mari di felicità di compiacenza parte a parte mari d'amore che facendo a gara uno si tuffava nell'altro che produceva grande eroismo il mistero dell'amore e delle onde di amore tra Gesù e la Madonna io spero io sinceramente lo spero proprio che in paradiso se un giorno ci dovessi andare nostro signore mi faccia vedere qualcosa d'accordo cioè è qualche cosa a mio avviso di inimmaginabile a mente umana forse anche a mente angelica d'accordo nessuno può immaginarsi cosa intercorresse tra Gesù e Maria nessuno ecco e non per noi soli attenzione sorgevano questi mari e ecco qui che adesso cominciamo cominciamo a fare avete visto quando rullano i tamburi oppure quando c'è sta oh ecco attenzione adesso attenzione perché adesso arriva il bello quello che coinvolge noi e non per noi soli sorgevano questi mari attenzione ma anche per chi ci avrebbe tenuto compagnia nella nostra volontà attenzione terza traccia stiamo andando verso la terza traccia perché abbiamo sempre la solita traccia del solito atto e poi abbiamo la numero due che è la riparazione di Gesù la numero tre che è la riparazione di Maria e udite udite ora c'è la numero quattro e poi insieme alla numero quattro che ce l'ha messa Luisa per primis ecco ci stanno quattro A quattro B quattro C tutte quelle fatte da coloro che sarebbero entrati nel regno del divino volere e quanto più queste tracce aumentano voi capite quanto meno alla Santissima Trinità giunge il gracchiare di quella prima traccia malamente composta da ogni essere umano con i suoi atti che nella migliore delle ipotesi sono atti umani che valgono poco e nella peggiore delle ipotesi sono atti gravemente cattivi che sono l'orrore e la deformazione in atto devastante e micidiale rirendo ancora la lettura non per noi soli sorgevano questi mari ma anche per chi ci avrebbe tenuto compagnia nella nostra volontà anzi attenzione questi mari potrei dire si convertivano in tante voci che chiamavano l'uomo a vivere nel nostro volere per restituirgli la felicità la sua natura primaria e primitiva e tutti i beni che aveva perduto col sottrarsi dalla nostra volontà attenzione ora Gesù e Maria la felicità intrinseca dell'uomo primordiale di Adamo e di Eva l'hanno vissuta purtroppo loro per primi e anche noi dietro di loro insieme a questo hanno dovuto vivere dovendo distruggere il male creato dall'uomo anche la realtà della sofferenza offerta per amore cioè la croce che è l'unica arma capito una bella arma disintegrante avete visto quei cose che si vedono nei film di fantascienza ma quei disintegratori che permette di distruggere il male prodotto dal peccato non c'è altro sistema d'accordo che era la croce non c'è e quindi a fianco a questa immensa felicità che Gesù stesso e la Madonna vivivano già su questa terra c'era inseparabile compagna la croce e questo varrà anche per noi non illudiamoci che nella divina volontà arrivi il paradiso celeste perché tornerà sempre il paradiso terrestre un bellissimo paradiso terrestre però anche se condito dal sale benedetto della croce ed ecco Gesù stesso dice ora vengo a te e si rivolge a Luisa dopo la mia mamma celeste quindi abbiamo avuto Gesù e Maria dopodiché blackout per anni circa 1900 stop d'accordo stop dopo la mia celeste mamma chiamai te per fare che tutti gli atti umani abbiano attenzione il primo suggello fatto da me mia glossa uomo dio il secondo fatto dalla mia mamma mia glossa apro parentesi creatura umana divinizzata perfetta e il terzo da una creatura della stirpe comune cioè creatura umana non divinizzata ma Luisa segnata come tutti noi dalla colpa d'origine capito? tre tracce sopra la traccia umana il mio eterno amore non era contento se non avessi elevato una della stirpe comune che doveva aprire le porte a chi si disponesse ad entrare in queste porte per vivere nel nostro volere ecco perciò le mie tante manifestazioni i tanti valori ed effetti che ti ho fatto conoscere sulla mia volontà questi saranno calamite potenti per tirare te e poi gli altri a vivere in essa metto punto dopo dopo riprendiamo la lettura cosa significa dunque per me che volendo entrare in questa porta aperta da Luisa voglio entrare nel regno della divina volontà e così facciamo il punto di quanto ho già visto numero uno numero uno c'è una scelta radicale determinata e di fondo di non volere altro che quello che Dio vuole per quanto attiene all'esercizio della mia libera volontà quindi non soltanto cioè nel regno della divina volontà cioè peccato non si sa neanche più che cosa significa d'accordo cioè non c'è che cos'è il peccato cioè io proprio non c'è tu vai a chiedere alla Madonna che cos'è il peccato la Madonna sa cos'è il peccato in linea teorica cioè sa quali sono gli elementi costituti ma la Madonna non lo sa che cos'è il peccato d'accordo ecco un figlio della divina volontà cos'è il peccato non lo sa non basta non sapere cos'è il peccato d'accordo significa tendere ad una santità grossa quindi camminare risolutamente verso la perfezione non accontentarsi di non fare il male voglio dire comprarsi una Ferrari quando ero giovane c'era la mitica testa rossa adesso chi lo sa che Ferrari non so più molto pratico ti entri lì dentro ecco e te ne giri come un pazzo andando come un matto in giro e questo diciamo così come metafora dell'impegno che tu profondi verso la santità uno secondo la coscienza che tu sei immerso nella divina volontà e quindi in tutto ciò che ti circonda fin nei minimi dettagli fin nella minima parola di chi ti sta intorno nel minimo incidente nel minimo evento della vita quotidiana tu sei immerso in questo divino volere e sei chiamato continuamente ad unirti ad esso sto vedendo le cose essenziali terzo però e qui entra il discorso dei giri e questo nella divina volontà noi continuiamo cioè allora io se scelgo di fare la divina volontà non contribuisco ad andare a creare questa vortice di armi micidiali cioè di atti umani che pur provenienti nell'essenza nell'origine nell'essere dalla divina volontà sono trasformati dal libero dell'uomo in disastri quindi io mi chiamo fuori non ci metto del mio in questa devastazione generalizzata ma fronteggio e cerco di riparare di distruggere di smontare quello che purtroppo le altre creature che non hanno fatto queste scelte che non vivono in questo regno fanno in continuazione e in questo senso a secondo l'onda inaugurata da Gesù seguita dalla divina Maria poi ripresa da Luisa e dopo Luisa da tutti i membri della stirpe comune di Adamo che vogliono vivere così quindi spero di essere stato chiaro questo significa vivere nel regno del ci sono questi passaggi capite e riprendo la lettura ma per entrare nella nostra volontà e seguire il sublime volo dei miei atti e quelli della mia indivisibile mamma bellissima espressione indivisibile mamma per quanto sei della stirpe comune si rivolge a Luisa non potevi entrare nel nostro voleri se non avessi almeno o fossi trasformata nella natura che uscì dalle mie mani prima che l'uomo si sottraesse dal nostro volere quindi c'è un processo di progressiva trasformazione di purificazione per questo io oltre a queste catechesi chi in qualche modo è interessato al regno del divino volere e che pensa che sia utile seguire qualche mia considerazione in merito io tutti quanti i giorni prego faccio la meditazione nella divina volontà che la faccio ad alta voce la rendo pubblica e i primi volumi della divina volontà e il primo ciclo di meditazione si chiamano come ci si prepara a vivere nel regno del divino volere perché Gesù ha condotto per mano Luisa ad entrarci in questo mondo perché certamente è necessaria la conoscenza un atto forte della volontà ma ci sono dei tempi tecnici diciamo così di purificazione di sfrondamento da tutto ciò che ci portiamo dietro e che non è che sono un batter d'occhio un batter di ciglia che da oggi al domani tu passi da una vita mondana a vivere nel regno del divino volere ma questo non non esiste completamente toglierlo dalla testa esiste soltanto nella mente di chi vive di illusioni spirituali una cosa di questo genere non nella realtà ok ecco perciò le mie tante grazie per ridurre la tua natura l'anima tua a quel primiero stato attenzione come ti aggraziavo cioè ti riempivo di grazia così attenzione ti toglievo i germi le tendenze le passioni della natura ribelle lasciando sempre libera la tua volontà capite quindi c'è un percorso in cui c'è una cooperazione reale della creatura nel senso che la grazia di Dio ci porta ci sollecita ci dà tanti modi per crescere per correggerci per toglierci i difetti le cattive inclinazioni quindi per riavvicinarci per quanto possibile ad una condizione di innocenza questo però si fa con il libero consenso della nostra volontà e noi dobbiamo lasciarci come dire plasmare lavorare operare trasformare dalla grazia senza opporre l'esistenza ma cooperando con la sua azione proseguo la lettura era necessario per il mio decoro santità e dignità che dovendo dichiamare nel centro del mio volere per farvi vita comune attenzione per farti percorrere gli atti fatti da me e che dalle creature non sono conosciuti ancora ridurre la tua natura a questo stato felice altrimenti non avresti potuto correre con me negli interminabili atti del mio volere né stare con me con quella dimestichezza che ci vuole per operare insieme cioè come dice un canto della cara amica che saluto se sente queste cose Deborah Vezzani che cita un pezzo degli scritti vivere nella divina volontà significa operare da Dio cioè diventare un collaboratore stretto te domini Dio la dimestichezza che ci vuole per operare insieme capite? non è una cosa così cioè quindi le passioni proseguo la la lettura i germi delle tendenze non buone sarebbero stati come tante sbarre di divisione tra me e te quindi per giungere a questo grado di unione al più attenzione saresti state agli ordini del mio volere come tanti altri miei figli cioè saresti arrivato al punto già molto lodevole di obbedire bene ai miei comandi ma non di operare in me a beneficio dell'universo intero ma fare ciò che feci io dal fare ciò che stai feci io sarei stata molto lontana e né tu né io saremmo stati felici mentre attenzione a questa frase il vivere nel mio volere è proprio questo questo di questa frase bisogna che ce la scriviamo a caratteri cubitali ci facciamo un bel quadretto e ce l'attacchiamo sopra il letto ripeto il vivere nel mio volere è proprio questo attenzione vivere pienamente felice in terra per poi passare a vivere più felice nel cielo punto la dimostrazione lampante assoluta e certa che uno sta vivendo nel divino volere o che ci si sta avvicinando è come dice anche la sagra scrittura di quando uno è che fuggiranno tristezza e angoscia e gioia e felicità li accompagneranno profeta Isaì è come dire è assolutamente imprescindibile una cosa del genere e quanto meno sono gioioso e felice e quanto più sono triste e non contento tanto più sto allontano dalla divina volontà questo è proprio sicuro e tanto più sono ingabbiato incatenato inschiavizzato in labirintato intorturato dentro la valle pestifera della volontà umana spero di essere stato chiaro andiamo all'ultima pericola l'ultimo passaggio di questa splendida lezione e con cui chiuderemo anche la puntata di oggi perciò ti dico vera figlia del mio volere attenzione primo parto felice della mia volontà sii mi attenta e fedele vieni nel mio eterno volere ti aspettano i miei atti che vogliono il suggello dei tuoi ti aspettano quelli della mia mamma ti aspetta tutto il cielo perché vogliono vedere tutti gli atti loro attenzione glorificati nella mia volontà da una creatura della stirpe loro ti aspettano le presenti e le future generazioni per essere restituita la felicità perduta allora spiego come vedremo se Dio vuole e lo troverò nell'antologia dei brani sul divino volere che presto cominceremo a forse già dalla puntata prossima scandagliare perché adesso poi dovremmo dimostrare che vivere nel divino volere è vivere pienamente felice in terra per poi passare a vivere più felice nel cielo questo si può dimostrare d'accordo allora Gesù dice a un certo punto e anche qui ci vuole l'intelligenza per capire bene che un atto fatto nel divino volere da me adesso d'accordo da me o da te sto usando il tanto per dire ecco e riverbera tra i beati cioè i santi del cielo se vedono fare un atto nel divino volere da una creatura umana come noi gioiscono aumenta la loro gloria perché perché tutti gli atti per quanto eroici fatti da loro in questo mondo in semplice obbedienza alla divina volontà non raggiungono non raggiungono un solo atto fatto nel divino volere per cui se io tornando agli esempi fatti dall'altra volta dico divina volontà io mi fondo in te entro nel mare infinito che tu sei e metto il mio ti amo in questa brutta cosa che ho visto fare in questo momento a questo mio fratello e questa mia sorella d'accordo mettendoci il mio ti amo la mia riparazione il mio amore e supplicandoti per lei che possa venire l'avvento di una volontà una cosa così semplice questa cosa ecco è una cosa talmente grande perché appunto compiuta nella divina volontà che gli atti eroici dei santi non raggiungono una tale altezza non cioè questo è un atto piccolo di per se stesso no cioè non è neanche troppo troppo faticoso basta soltanto metterci un pochino di buona volontà ma la sua forza soggettiva deriva dall'essere compiuto nel divino volere vi ricordate quando spiegavamo la differenza tra atti umani e atti divini capito un atto umano è un atto che resta per cui cioè centomiliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di atti umani non fa un solo atto divino questo è lo stesso discorso che si dice in morale che centomiliardi di miliardi di miliardi di peccati veniali non fanno un peccato mortale capite stessa cosa perché centomiliardi di peccati veniali subveniali subveniali fanno semplicemente diminuire e raffreddare la grazia un solo peccato mortale te la fa perdere tutta da un botto capite così centomiliardi di atti umani potranno avere dei grandissimi meriti ma non diventeranno mai infiniti eterni immensi mai mai perché saranno sempre finiti temporali e limitati per forza perché sono atti compiuti da un essere temporale creato da un ente finito da un ente creato ok e attenzione Gesù dice ti aspettano le presenti e le future generazioni perché le future generazioni attenzione nel divin volere già sono in atto e se io oggi compio nel divin volere un atto questo atto riverbera per la sua unione con la divina volontà e per il suo scorrere al di là dei confini del tempo e dello spazio dentro questo volere eterno e immenso necessariamente raggiunge gli uomini non soltanto del passato ma anche del futuro non solo che stanno sulla terra ma anche che stanno nel cielo capite ah no dice Gesù non finiranno le generazioni se non mi ritorna l'uomo nel mio seno bello dominante come uscì dalle mie mani creatrici non sono contento di averlo soltanto redento non gli basta questo Gesù anche a costo di aspettare avrò pazienza ancora ma deve ritornare a me come lo feci in virtù della mia volontà capite quindi il regno della divina volontà il fiat volontas tua sicut in cielo et in terra che Gesù subito ha insegnato alla sua chiesa ma senza come dire svelarne tutte le molteplici e stupende implicazioni è il compimento dell'opera della redenzione perché l'opera della redenzione non è semplicemente ottenere il perdono dei peccati e aiutare l'uomo pur con tutti i travagli e i combattimenti della vita presente a raggiungere il porto della salvezza salvarsi l'anima questa è già una cosa grandissima e attenzione questo è il problema principale che rimane il numero uno per tutti anche se oggi lo si dà automaticamente per scontato perché molta gente pensa che vanno venuti in paradiso qualunque cosa succeda questo in quale vangelo l'hanno letto dove sta scritto io ancora lo devo lo devo imparare no perché non c'è scritto nel vangelo questo ma questo è troppo poco è anche troppo poco che dentro una situazione di questo genere qualcuno decida bene passo per la porta stretta passo per la via angusta e comincio a fare violenza perché il regno di Dio patisce violenza e solo i violenti se ne impadroniscono e faccio il pugilato come dice San Paolo comincio a fare la sceta perché devo santificarmi cosa più grande che salvarsi l'anima ma non basta ancora si tratta di vivere una vita perfetta e felice al grado top cioè in cui non c'è più nulla di quello che faccio niente che non soltanto non sia intrinsecamente perfetto ma soggettivamente talmente grande che più grande non possa immaginarsi perché unito al volere divino cioè capito cioè Dio ha pensato per l'uomo un'esistenza alla grande in grande cioè capito cioè la vita dell'uomo se l'uomo fosse rimasto in uno stadio sarebbe stata una cosa spettacolare ma era bellissima cioè capite a Dio non gli bastava di vedere una creatura buona che faceva tante cose belle e carine Dio voleva vedere una creatura finita completamente però divinizzata che non faceva nessun atto da solo ma tutti fusi con il suo volere tale da rendere gli atti concretamente compiuti dalla creatura umana immensamente belli e produttori in quanto tali di tale tanta gioia e felicità che non c'è mente umana che se la possa rappresentare fino a quando non li vive ecco deve ritornare a me come lo feci in virtù della mia volontà col fare la sua volontà prosegue scese nell'abisso e si trasformò in brutto io immagino sempre non lo so l'orrore perché c'è stato un giorno no? c'è stato quel giorno in cui hanno commesso il peccato originale cioè io penso che se la divina volontà ci aprisse il libro e ci facesse vedere quel giorno hai visto proprio il gelo cioè quando noi vediamo una cosa no ma che è successo horror no hai visto proprio quelle scene in alcuni film che si vedono che succede una cosa che non deve succedere no? ecco muore il personaggio che tu no non può essere morto questo è successa una tragedia col fare la sua volontà scese nell'abisso e si trasformò in brutto è una tragedia il peccato originale ma una tragedia paurosa spaventosa col fare la mia volontà salirà ed acquisterà la nuova trasformazione nella natura da me creata e solo allora potrò dire tutto ho compiuto attenzione eh il richiamo alla frase che Gesù disse poco prima di morire sulla croce lì era compiuta l'opera della redenzione ma l'opera della santificazione e divinizzazione è ancora in fase di compimento non è ancora compiuta perché tutti quanti questi esseri umano divini diventati divini per la fusione guardino volontà non è che se ne vedono tanti in giro d'accordo solo allora potrò dire tutto ha compiuto l'ordine di tutta la creazione mi è ritornato e mi riposerò in esso questo è quello che Dio vuole e Gesù ha detto esplicitamente non ci siamo ancora arrivati aspetto avrò pazienza ancora ma tutto questo certamente succederà e solo allora potrò dirmi pienamente contento e potrò dirmi che tutta la creazione mi è ritornata e potrò riposare in essa ecco questo è un pochino un inviso insomma questo passo è stupendo perché spiega molto bene il cuore del regno del divino volere quindi ricapitolando ci abbiamo un minuto sì gli atti umani che hanno l'origine ontologica di involere ma che ordinariamente sono di volontà umane che quindi sono difformi da quell'ordine e sono completamente duplicati dalla vita terrena di nostro Signore Gesù Cristo triplicati dalla cooperazione della Madonna con l'opera nella divina volontà di Gesù Cristo quadruplicati questo è già successo dall'ingresso nel regno della divina volontà di Luisa che è stata la prima di entrarci e a numero indefinito moltiplicati da tutti coloro che rispondendo a questo dono e a questa chiamata e prendendola sul serio e anche credendoci perché chiaramente bisogna crederci a queste cose io vi dico insomma quello che posso dire insomma la persona che conosce la teologia dogmatica è che tutto questo è perfettamente come dire compatibile conciliabile assimilabile a quello che noi di Dio conosciamo dalla dogmatica e dal sano magistero della chiesa e dalla sana dottrina dei sani certamente poi queste particolarità che Gesù ha rivelato devono essere oggetto della nostra meditazione vedere se e quanto gli diamo credito e quindi se come e quanto vogliamo investirci bene dalla prossima settimana se Dio vuole cominciamo l'ulteriore tappa di questo cammino andiamo verso la conclusione che la lettura commentata un po' come oggi di alcuni passi scelti del divino volere che ci fanno comprendere soprattutto quali sono le promesse e gli effetti legati al mondo del divino volere vi do la mia benedizione appuntamento la prossima settimana ave maria un po' come Grazie a tutti